Oggi paghiamo noi! Alla portaerei del mobile, oggi compri senza anticipo, prima rata nel 2003 e subito ti diamo un assegno circolare che puoi spendere dove e come vuoi. Mi spiego meglio. Ad esempio, con un acquisto di 3500 euro, 48 comoderate da 102,50 euro al mese a partire da gennaio 2003. E dentro una settimana dall'acquisto, a casa tua, un assegno circolare di 468,60 euro da spendere dove vuoi. Chiaro? Oh, anche sugli sconti estate del 40%. Oggi paghiamo noi! Vieni alla portaerei del mobile a San Benigno Canavese!